Signori bentornati con un'altra bella parte di Dead Island 2 Perché? Perché premo sto cazzo di tasto? Allora, dove manda? C'è ancora la batteria qua Non ho ancora trovato nulla per alimentare con la batteria Qua dove si va? Che bello perché è tipo il quartiere di Ricchi ed è tutto collegato Vedi anche qua il fusibile ma non ne ho C'è sto trovando solo batterie Che fastidio Sono attenti, farò una pezzi se non fai attenzione Ok, questo dovrebbe farmi una pezzi Porco Giuda, sì Non subisce manco danno Gli credo Ma come cazzo è possibile non subire? Dai ma che cazzata è? Una singola morte Un singolo colpo mi ha dato Un singolo colpo Secondo me c'è il mio cadavere Non credo però No, non c'è Oddio Aspetta Ecco Quello andiamo a controllare qua Cosa deve essere di buono Di buono Con le fogne qua Sicuramente ci andremo più avanti Beh niente C'è vuota sta zona Non c'è nulla Non manco a dire Oh c'è qualcosa di serio Da raccoglio C'è un cazzo Manda da un affanculo va Non è venuto qua per nulla Ma almeno mi sono levato il dubbio Altrimenti me lo sarei tenuto per sempre Ui Il figlio ha visto il postino Perché Madonna mia Ah qui è dove siamo scesi Da casa di lui Questa è la zona giusta Questo è chiuso Cosa c'è scritto? Antennista Madonna Tocca a cercare un po' di gente Raga Antennista Il postino Stavano facendo il set fotografico Alle macchine di lusso Oh stronzi Guarda Infatti Questo calcio frontale Fantastico proprio Alla Jiki Chan No? Micidiale Ho scelto il personaggio giusto Me lo sento Qua possiamo entrare? Ovviamente no Chiava Chiava magnetica Delle capre Che cazzo All'altra te parlavano di me Che cazzo È una citazione per noi sardi Porco No 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 Fa cagare No Io adesso accetto armi solo Con cento di danno e passo Altrimenti nada Possiamo intrufolarci da qui Che è abbastanza ovvio in realtà Perché Sicuramente la porta d'entrata è chiusa Guardate Faccio vedere io Che sono pratico Vedi 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 Io so tutto Raga Io so tutto Ma se ne ho da qua Dai Cos'è sta roba? Denaro Mio Apology script Ah ah è chiuso Merda Fortuna non riescono a sfondare Madonna che figata questo Bello No che polle Ah ciao Boom Ma gli ho schiacciato La testa e gli ho imploso Il torso Ok 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 Qua è chiuso Sì è tutto chiuso Raga Perché non vado da Ma Ma non sono in ginocchio Come cazzo è possibile Che siano così Guardate Cioè Scusate Ma siamo In una casa di giganti Perché è impossibile Che la cassettiera Mi arrivi praticamente Al collo Che cazzo Non ho mai capito Perché non riesco No A farle precise Ste cose No Hanno sempre problemi A fare Gli oggetti Magari Le macchine Quello che volete Non riescono mai A farlo bene Cioè proporzionato Al protagonista Dico Anche su Resident Evil 2 Mi era capitata Una cosa del genere Però su Solo per una macchina La macchina della polizia Cioè guardate Cioè guardate Cristo Sono un infante Così cazzo Merda 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 Dai No Questa Ma ciò che mi serve Questa Ma me l'ha data? Me l'ha data Spero No Questa è forte Vai a cagare Vai lì e mangio Merda Ma questo è forte Se no Una volta no Oh merda Con vita E fanculo Da per rompere l'arma Fuck Dite che mi ha visto Che stiamo qua Continua a salire No Scusa Merda Ma che l'è forte Guardate Questa con un colpo Mi stecca Quasi Stroncia Forse no Forse no Oh Forse si Aspetta Aspetta Che arma Buu Guarda questa Ah no Lo posso ammazzare Cazzo Quelli di prima Non subivano danno Pensavo fossero tutti così Ah scusa A me dobbiamo andare di qua Ci sto passando attraverso Il racchio Ah beh Ho sfondato la vetrata Ok Sono lì No ma Ma poi devo andare pure lì Eppure è sbagliata la zona Ma che cazzo ci faccio qui allora Ma che cazzo Bong Eppure è sbagliata la zona Capite No Era questo il camminatore forte Ecco po' che è sbagliata la zona Colla La kit Stacca Stacca Deve Prende Andiamo Addio le gambe Team Alpha Team Beta Ok bene Vabbè andiamo Poi rimaniamo a controllare l'infinito Vedete che si apre Ciao Ho un'idea Tecnicamente ho la chiave No Dovrei avere la chiave Quindi Non potrei aprire la porta Lo so sono una rottura di cazzo Ma ora che siamo qui No 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 dai vabbè andiamo via dai Comunque tecnicamente dovrei avere la chiave d'accesso Posso che possano entrare in altre zone Poi le controlleremo Cioè vedete Tecnicamente Poi io messo Mi posso non fare l'attacco a sorpresa Pirla Pirla Adesso è un'altra andata Tannica di benzina Aspetta Aspetta Forse c'è un'arma da lanciarli che fa cagare Questo Perfetto Tutto secondo i piani Brucia Marda Pueblo Bloccato Sì Sì Raggiungiamolo L'alpirino Ok Ok Contate l'autorità all'alpirino Ok Fai un'autorità Shuriken Una cosa Shuriken Ah Bello Magari evito di lanciare con la bomba di merda Che è Sì sì Guarda Fatti questo è uno Ancora vivo di soldato Voilà Guarda come si Si leva fuori Ai coglioni What a Pirla What a Pirla No Zoom Mi ne paraggi Eccolo Si è morto Sì è morto Sì è il prossimo Avangura Ok Aggiustiamo le armi Raga L'ho sfondato Già Anche il bacetto Dovrei usarlo Fabrica Non possiamo fabbricare Un corno Ok Appartate che cambio arma Metto questa Proviamo questa Non l'abbiamo ancora usata No Tipo d'acciaio Oh Una scala To zombie Vabbè sti ghezzi Manco ci cagano Lo impegnate Aspetta che ti prendo Elementi di fissaggio Non ti servono Oh no Sono accorti Che ci sono Una bella bibitina Guarda Barba Soffri con calma Ma lo sto massacrando Non si deve rialzare Beccato che la signora È morta dietro Dove lo stanno Che fa cagare Che beh È non comune Ma Eh Un'arma non comune Però non fatto Sto aggrandando Però almeno resiste Ha molta resistenza Per ora Non è vero Cazzate Mi rimangio quello che ho detto Tubo da accioio Tubo da accioio Ecco No L'ho sbagliato Scolpivo quello del top Aspetta Andate lì Quanto ci impiega A ricaricarsi Sta merda Vabbè Vabbè No guarda Potremmo aspettare C'hanno stato anche lui Ma sti cazzo Questa si è un'esplosione Con il controcoglioni Mangia 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 Oh no no Ah 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 Perla Perla Aspetta che gli tira uno shuriken Mancato Però preso a loro Signora La smetta Minchia potente lo shuriken Che cazzo Cioè Ha mutilato due Overpower Certo Si deve ricaricare tutto È vero Guarda 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 Ma che cazzo Ok Il peggio è passato Grazie Artiglio massacrante Bello Qua che c'è Ok Shuriken Ma io ho fatto nulla Oh damn Si è chiusa Mi chiamano sono ancora arrivato all'hotel Da questa parte però No è chiusa Ma che cazzo Bene Oddio che è olio questo Gli Stati Uniti invadono Gli Stati Uniti Si auto invadono Ma perché faccio Questa cazzata Ma ce l'ho lo spazio no Perché non la prende Cioè Apro E la butta fuori Anziché per andare in automatica Strano Forse prima ce la fa vedere Del tipo Guarda che bella cosina Che hai trovato Care mamma Questa poi ve la faccio leggere Magari In un altro momento Ciao Barrettina Valigia Valigia Oh ma guarda un po' Questa Questa da cazzo la mette Adesso devo parlarmi di più Non sopravviverò Però dove la metto Una valvola C'è una valvola qui da poter mettere Porta si apre l'altra parte Classico Classico Serratura Magnetica Mancante Aspetto delle merda Io vi odio Si è aperto No ma come Ma scusa Neanche Scusa Ma non è giusto C'è non è giusto L'ho distrutto Dovrebbe aprirsi La porta M'affanculo Che giù privata Ma non ci vado là sotto Mi piace Prima volevo prendere questa cosa Ma se che me la prenderò Non lo so Eh no Quando ci riesco a passare Cioè Cioè allora No Non capisco il tubo dell'acqua Cioè dove Dove Ah ecco Che cazzo Dov'è la No scusa Dov'è la valvola rossa Dov'è la valvola rossa Dov'è la valvola rossa Ah ok Minchia Pensavo infatti Si fosse Spawnata Ma che cazzo sto facendo Ecco Ok Ma si è chiuso Ma si è chiuso o no Ma che cazzo Allora Scusa eh Chiuso Ok C'è ancora l'elettricità Valla a capire sta merda Aspetta No Uso questo Questa Bong Le fiamme non mi piacciono Ah Bello Per cosa Per una mazza da golf Raga Cioè Sono banale Sono Uh scivolatine Uh scivolatine Tutto nostro Ups Idea Vai lì Prego Prego Abbuffatevi Abbuffatevi Tirla Cazzo Affetti Coglione Venghino Venghino No Mica Dovo lanciarla qua In effetti Però Probabilmente Dura Durano le fiamme Eh Si e come Si provare Venghino Signori Venghino Oh Gesù No Sto finendo Bruciata Verde No che esplode Mamma Non l'ho rischiato Quindi le fiamme Finiscono Madonna Sto arrivando Altra gente Ancora Porco Giuda Suona Ancora Arrivano Altri Ma proviamo Questi Un bel buco In faccia Guarda 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 Allontaniamoci Da qui Perché se no Continua a suonare Sto schifo Potevo togliere La batteria Anche io Chiamatemi Genio Guarda Guarda L'altro bel buco Signore Fatevi avanti Guarda 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 Come vi ho affetto Merde Non mi ricordo C'è più Manco Vostro zio Vostra madre Vostro padre Porco Giuda Ecco così Guarda maciullati Mi mangio anche la barrettina E soffre Colpo di grazia Ma pirla Che lento Bene Mica Wolverine Fantastici questi comunque 10 su 10 Gli diamo di conto Gliata Guarda come si Come la maciulli E' figo Fatto bene Soffri soffri Non c'è neanche un'arma da fuoco Probabilmente Mi sto mancando i colpi Chirurgia sanica E l'ho parato Ma ciullo Guarda che bello E' un tocco di classe Che tipo gli fa un buco Bello bello E ci vuol dire anche Traverso E' soddisfacente E' soddisfacente Oh Gesù Oh non c'è sicuramente un corno Ma proprio sicuramente Non c'è un corno Al massimo possiamo No No A forza aprire qua Mamma Va cagare Va Poi si apre dall'altra parte Dalla strada Si apre Seriamente Non da qui Dall'interno Ok Questa roba Coltello da chef Ma bene Questi li devo assolutamente Riparare E' potenziale Qua se lo subisce E basta Non deve fregare Nient'altro Ne ho una trattata Batteria Ah Signora Shuriken Ma ne fa nulla Fa più danni Il Wolverine Aspetta Ah Ma perché C'erano la batteria Quindi Eh Avete un po' il cazzo Però Via Quelle coglioni Signora Quelle coglioni Signora Movito e basta Il mio video di paragone Via la testa Ancora Ma come Ma è arrivato all'infinito Eh porco cane Devo parlare Il momento giusto Tipo ora E poi guarda Che bella merda Baffamene Vado Batteria Vabbè Non è necessario Come la portassi dietro Qua c'è C'è Cacca Totale Vieni qua Così Ti prende un po' di scossetta Scossa E via Qua I componenti Elettro Scope Con questa cosa Scope Zombie colazzate Quale serve Le zombie colazzate Però quello Cazzo Eccolo Lui Alla pesta di merda Devo mirare Non ci pensare Non ci pensare Perfect Andiamo una rapida Ma guarda Da dove escono Ecco perché Tanto non conviene Rimare a uccidere A oltranza Tanto non libererei mai La zona Non ha senso Andate dall'affanculo E' figa però Sta cosa Molto figa Ci sta Mi piace È stata Un'ottima mossa Molto figa Uccidi di tutti Ma se continua a riuscirne Che faccio Fa per rompere L'arma però Dov'è il coltello Da chef Ma che schifo Ma che coltello Da chef Dai E' 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 Vediamo si trovo qualcosa di interessante for intimate wedding press 1 for our grand celebration would you like to join our platinum membership plan you'll get exclusive and... si vai hello welcome to the halperin hotel where we... oh guarda e vai guarda com'è la 4 apro oh no aspetta mi bloccano Wow 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 wow! Guarda che velocità d'attacco! Affettati! Rosebeef! Rosebeef fa cena oggi eh! Rosebeef v-3 fatto ma sempre Rosebeef! What? Oh no! È la sposa! È toh! Un bel coltello in testa! E anche la sposa va giù E un'altra andata C'è altro per me? No IATA Perfetto Siete feriti Possiamo curare Certo come no Sono tutti morti Componenti elettronici Bene Quanta roba Un botto di cose chiuse Però mi piace perché almeno poi Ci torneremo Le cassette chiuse Ma dai Che sta faccio da dentro? Magari c'è merda cazzatine così componenti elettronici Ci perdiamo tempo perché Per cosa Batteria Parteci pazienti no? Sì Tch Perla Bello sto coltello dopo pensiere Migliorare quello che è Riparlare è sicuro Ecco qua Dove cacchio vado Ok da questa Matrimonio felice comunque Investiga la piscina Investiga o investiga? I dubbi esistenziali Investiga Un manganello non sfo la gente Wow Oh no I got to know what the army was doing here Ma che cazzo? They were pumping this crap out of the pool Ok Denaro Il danno lo fa sempre bene Minchia vado un codoli Per riparare i coltelli Il coltello E tutte le altre armi Ma lì sto schifo Mecchia Uh Un altro fusibile che conosce Questa chiuda Ma what the fuck E se ci cade dentro Quanto qua muore Si è come Guarda Bello maciullato Mi piace Eh non è tipo acido sarebbe Oh guarda Un caustic axe Un caustic axe Some kind of Industrial solvent They had gallons of it Yes They pumped this shit straight into the drains Jesus The army filled the pool with solvent and just tossed the bodies in When it got full they pumped the meat soup straight into the drains Oh This is so fucked up Hey If you're still hugging for your lover boy It's a fool Mingling But don't worry sweetheart You can still have your first dance Oh great She's fucking crazy Timbuk says she's behind this body melting nightmare What? Oh no Ah non subisce più danni mo? What? Questo no Oh shit Vale Oh Merda Se li butterà in In piscina al top Ah Sono prima così Che mi frega Ma ha fatto Oh A parte Quelli che non possono cadere Tipo questi non si fanno nulla Ma Non so perché Oh Quella coglione Allora Allora Ok Occupiamo un po' di energia Che Che Merda Barrata proteica Subito Cade Vai 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 Fatti un bagno 200 calci al secondo Vai Vai Pirla No quello non si fa un corno Lui si Questa no perché c'è la mascherina Capito No 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 Mi si avvertola sta roba Ok Ok Alcuno Ok 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 Nella stanza 307 Guarda questo Bello Lo rischiamo di perderlo Oh shit Pirla, 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 pirla Ah che cazzo Minchia l'ho rotta appena in tempo guarda Come lo possiamo modificare di nuovo Manganello Batteria non ci serve Tanica non ci serve Questa è così Lega Ok Questa sarebbe il top Meglio tenerci un paio di armi Le più forti e le altre le buttiamo nel cesso Tipo ste qua che se ne frega Cioè potenza danni vedo 66 potenza 101 Vedi questa possiamo buttare nel cesso Fanculo Fanculo anche questa è pesante Tanto fanculo anche questa è pesante Fanculo Vorrei tenermi poche armi Questa è potente 126 Spada improvvisata Chissà quelle di queste No aspetta 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 Queste le possiamo potenziare No Sì Sì possiamo fare anche il coso elettrificato Qua fai Subito Poi Eh dove è la spada Questa Ah non possiamo fare nulla Questo sì però Mentre danni va a riducere la durata Durata e forza Fai durata e forza dai Questa La lasciamo così ma la ripariamo dai Ok Madonna quanta roba Aspetta prendiamo la Dove sono questi Zack Ora Devo andare alla stanza 307 Cos'è questo campanellino L'ho sentito anche prima What the fuck Si passa da qua Si passa da qui Questa è una Questa è una Sbombardo Ma che cazzo Perché è esploso No, non passami la scossa, idiota Va, non c'è nient'altro La barretta È questa Wow Perché è esploso? C'era delle granate addosso Era uno di quelli Uno di quelli zombie esplosivi, no? Chissà Bene, bene Military person check in here Tanica d'acqua Che perdono acqua così 20 secondi Perla Ok Componenti Santo casino Questa è la tua stanza Ritira un'altra volta Non so perché l'ho ripetuta Oh Che niente Buu Quella ha problemi Paraccia Perché dal che avrà mai detto La lavanderia Dove cazzo Le trovo Stricolose Vai a cagare Mi sono imparato Ad aprire Ma è il badillo Prendiamo Cazzo Vedi Se faccio così Ah ok Era giusto Vedi implode Entro oggi Ok perfetto Basta che gli dico Sono shuriken E sto a posto Però non esplode A caso Quindi se lo tocchi Si attivano le granate What the fuck is this shit Che cazzo Ma che cazzo Boh Sono a un vespera Non lo so Gli attacchi Silenziosi Probabilmente Ma è una abilità Che lo colpisci Cioè lui Non so perché di te Quindi gli fai Il massimo Banno Magari Lo prendi alle spalle Ci starebbe Bomba chimica Feather Cosa è questa Ah estingue le fiamme Infra di certo Gli zumi Paragli Amato qua Oh man Ok Andrò O provate Per farlo Ops Ciao Ma Il fuoco È stinto Sì è stinto Ma che cazzo Oh È uccisi Mi muovo Sono già morti Cioè Gli sto andando il colpo di grazia Oh mio dio Non è che questa qui È tipo Herschel In The Walking Dead No Che la cassetta di sicurezza 14 Ok Dovamo tornare poi Nella lobby Nel caso E di qua Non c'è riflesso Non so perché Non l'ho inserita Non trovate strano 10-12 anni di sviluppo Per non inserire 311 dollari Oh Oh Che succede Yes Rimane giù Va bene Va benissimo Potrò farmi il giro Tranquillamente Provo bene Aha Non so questo Il rumore Qual è Va cagare Ok Rottami La granata Si è ripristinata Molto interessante Questo modo Di fare Cioè Non ti erano messi Numerati Tipo di sciuri Che roba così No Si ricarica È interessante Perché Sono come un'abilità Mi piace Nulla da Nulla da obiettare Mi piace Oh ciao Il cazzo Posso farlo Se vivo Come stava correndo Se è proprio umano Non so perché Sto provando la scossa La sto prendendo Perché Ovviamente Ah Guarda qua Puttana tua mamma Oddio Qua se lanci qualcosa Prende tutto fuoco Qua l'ha già sventrato Non si può aprire No Merda Se faccio così Non conduce però No L'idea sbagliata in mente Allora Porca merda Oh maronna Guarda 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 Imparato dal king Per cosa Abri un po' di denaro Ma sei pazzo No Aspetta questo No Mi fa cagare Guarda Ho rischiato la mia vita Cristiano Lì ci sarà qualcosa La morte Ma c'è un cazzo Sono venuto La barretta La barretta Va bene Va bene Signora Perfetto Lo studio della corrente Oh madonna mia Ma siamo pazzi Guarda la robetta che c'è Guarda Che bella Rubetta È natale Cazzo Ah Li possiamo mettere qua Nel ripostiglio Ok Ok Progetto Impattante da mischia Non comune Ok Vediamo cosa possiamo fare No Abbiamo già applicato a questo In effetti No Questo Questa A livello 7 Non ce la possiamo Non possiamo usare Questa Possiamo lasciarla Questa Possiamo buttarla Nel cesso Che cazzo Oh questa Mi ha regalato gioia Perché è veloce Però non Vabbè Lasciamo così Al momento Qua non Me la sento Di vedere nulla Anche perché Le armi che non mi Servono Le butto Cosa me ne frega Qua è crollato Bene Qua dove scendiamo Però Oh ma guarda un po' No no Non dobbiamo andarci Volevo vedere se potevo Sbloccare la porta Almeno Ok Bene Basta Cioè solo questo Pensavo di tornare Nella Luby No E poi da lì Stavo mancando questo Bingo Ok Dove cazzo è l'ascensore Ah è qua Qui non posso Non posso salire Qua su Io posso salire Guarda Ah ecco Ma dobbiamo un po' Usare l'ascensore Dobbiamo usarlo Per salire Sì anche perché Ho tolto l'energia elettrica Che cazzo sto dicendo Ma allora Di colpo siamo a Bagdad Guarda No Stavo lontano Ok Mica Siamo a Bagdad Così di colpo Se c'è un fucile in mano Pensate davvero Se è un Bagdad Se è grande È lasciato gli shuriken Volevo spegnere l'incenio Lo scopriremo Ma ditte che Siamo a me Il maggiore è impazzito Siamo a me Siamo a me Siamo a me noi è barretta il nulla ma siamo un vampiro per quello non riusciamo ma c'è il riflesso boh sta iniziando a pensare come cazzo faceva un passato altra vedo uscita non ah eccola a cassetta di sicurezza se infatti in cerca delle cose bonus qua e mezzo non volevo andare proprio nella strada giusta cosa succede qua? sto un po schianto ruggito questo non sembra bene oh no 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 chissà quanto danno fanno questi se t'arrivano a tiro con le granate attive ma daaa ma questo con shot a bene oh beauty case ok la strada è alta da questa ma se passo di qui vediamo se troviamo qualcosa di succoso qual'è questa? sostanza caustica bene molto bene molto bene oh questa me la porto dietro perchè è molto potente eh può tornare utile ma l'ho solo buttata in terra tu sei morto ricco eh tutto mio però guarda eh davvero davvero merda ecco perchè avevo bisogno di questi soldi guarda questa mi ha speso un patrimonio per nutrirla questa qua 314 no non sembra 314 dollari nella cassaforte si può tornare utile non so neanche se è è infinita o meno ma non quello se è infinita dai queste porte brucia guarda com'è subisce danni bravi venite venite merda e mo un po' come a cazzo ci passo io guarda si sbriciolano merda che cazzo vabbè subito un po' di danni ma minchia oh 3-0-6 qui va la volta 3-0-6 però porco giuda che ci ha festeggiato qua qualcuno ha festeggiato in grande qui eh eh che cazzo ma di chi era questa stanza? di un unicorno? per caso cioè guarda di un unicorno praticamente non si sgonfia per caso sarebbe stato bello ok probabilmente c'è un boss come lo so altamente probabilmente altamente probabilmente ci sia un boss guarda ma qui dove? ma qui dove? per terra si infatti che cos'era mi sto chiedendo capito? c'è ma curioso ah un altro zombie chubby che di chubby non ha nulla eh eh uh perfetto perfetto qualcuno sta subendo danni? forse sta passando sulla mia sorta caustica guarda è morto non so vabbè io son qua cazzo mi prego musica proprio smardato acqua ma accettiamo solo soda caustica adesso perciò anche l'acqua anche l'acqua oh porco cane ecco qui adesso cristo che è successo è esploso qualcosa questo cos'è richiede chiave elegante se vabbè sicuramente guarda vabbè oh oh sono curioso di vedere che cazzo è quella roba ho paura ok guarda porto dietro una di queste magari yes che merda guarda guarda sta a vedere oh questi mancati prima vai alla radio e io non ci vado guarda sta a vedere oh questi mancati prima vai alla radio ah era anche la via c'era un botto di presa d'aria che cosa che cosa sto controllando che non sia qualcosa di interessante vada un culo parte a prendere la scossa così a caso che no della perché ho preso la scossa non so neanche perché l'ho preso la scossa però vabbè contattiamo aiuto sono se sono 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 il rio sono rio sono Tu pensi che tu sei infatti? No, non è il contrario Io avevo chiesto e pensavo che ero f*** Ma... Mi sono più migliore Mi sono più... Oh mio Dio Mi sembra che sono immuni Deve essere valore di qualcosa per qualcuno Oh, è valore di qualcosa Abbiamo chiesto per te Beh, qualcuno come te Per il nostro programma di vaccino Oh! Ah! Ah! Ah, Doc Posso andare, sarò in attesa Ehi, aspetta! Ho bisogno di te! Tu devi arrivare qui! Oh! 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 Cosa? Non intendo bolle con la sposta Aspetta, aspetta, aspetta Oh, merda No, aspetta un corno Eeeh, scusami Eeeh Oh, scesù Questa fa danni, porco mondo Acqua Cazzo me ne fotte dell'acqua Questa strozza è tosta, eh Mi serve... Aspetta Eh, mi sembra un'arma più forte Che faccia più danni Questa fa 61 i danni Questa fa 119 Merda! Mi spacco le gambe Eh, forse devo difendermi meglio per così Oh! 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 Sparato bene Mancato! Oh! Oh! Scigliere altri zombie Non ho tempo da perdere queste stronzate Non saltare di più Merda! Uh! Shuriken! Non ne ho altri Non ne ho altri No, 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 no! Curati Oh! Cazzo! Vedete la sposa di Arnold Schwarzenegger Cribbio Oddio, Nicole, ma non quello che volete Vedete Ma ammazza, ma ammazza, porco cane a merda vai 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 boom ha 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 maggiore booker la storia ok boh questo me lo prendo almeno vale qualcosa se lo riprendo ma si può sforrare se lo ha quello che è l'altro umore vabbè fa niente andiamola non ho altre chiavi no cioè dovrei andare a cercarle in realtà le altre chiavi tipo vedi cioè chiave del corriere militare non ho idea dove possono essere queste cose allora ragazzi facciamo che io termino qua questo lesplay perché è durato un'ora almeno non so se farò dei tagli o meno se no lo carico così com'è noi ci vediamo con la prossima parte spero vi sia piaciuta spaccate il like e arriverò presto ciao a tutti ciao a tutti